Vince complicandosi la vita il Gela contro una profavara che ha provato a mettere bastoni tra le ruote alla formazione di casa che sul 3-0 pensava di aver chiuso la partita. Alla fine tre punti sono arrivati comunque per la squadra del tecnico Toto Brucleri al termine di un secondo tempo di sofferenza e nervosismo. Gela che mantiene il terzo posto ma che dovrà riflettere se vuole agguantare la vetta della classifica. La partita si è aperta con entrambe le squadre sotto la curva per depositare due mazzi di fiori in memoria di Giuseppe ed Emanuele Alabiso. Quest'ultimo tifosissimo del Gela ha tragicamente scomparso assieme al padre in un incidente aereo accaduto martedì scorso. Cori commossi per Nela e Svizzola Alabiso durante tutta la partita preceduta anche da un minuto di silenzio e la squadra di casa che ha giocato con il lutto al braccio. Dopo una ventina di minuti di studio in cui non succede praticamente nulla complice una profavara che si chiude a Riccio e con il Gela che fatica a trovare spazi al 23esimo la formazione di casa sblocca il risultato. Campanaro mette dentro dalla destra un cross perfetto per la destra di Nassi con quest'ultimo che anticipa un difensore e realizza il gol. Un gran gol quello messo a segno dalla bomber biancazzurro che sblocca la partita. Poco dopo ci prova Priolo ad invenzalire Pandolfo ma la sua conclusione su punizione è facile preda dell'estremo difensore gelese. Al quarantesimo arriva il raddoppio della squadra di casa grazie alla zampata vincente di Campanaro che raccoglie in mischia la punizione di Bonaffini. Primo tempo che si conclude così con il Gela avanti di due golle l'impressione che la gara sia chiusa. Nella ripresa però i padroni di casa perdono per infortunio tre piedi costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Messana ma la gara del centrocampista biancazzurro durerà poco. Prima però arriva il trist dal Gela ancora una volta con Nassi che la mette dentro da due passi grazie all'invito a Nozze di Mincica. La promovara non demorde e accorcia le distanze con Campione complice anche a una fortunata deviazione. Prima del raddoppio a Grigentino arriva anche il palo esterno di Grippi. Tre a due ancora una volta con Campione che la mette dentro dopo aver driblato un paio di giocatori e gara che si accende con entrambe le squadre che rimangono in dieci per il doppio giallo rimediato da Grippi e Messana. C'è il tempo di vedere la rete annullata a Campanaro per un sospetto fuorigioco e la punizione di Mincica con la palla che sfiora la traversa. Gara che termina dopo sei minuti di recupero con la profavara in avanti alla ricerca del pareggio che alla fine non arriva. Sui titoli di coda la bella e commovente scena di tifosi e squadre locali abbracciati sotto la curva boscaglia e che insieme intonano un coro per il giovane tifoso volato in cielo assieme al padre.